Si vantava coi colleghi di essere un furbetto del cartellino, cioè uno di quei pochi dipendenti pubblici che intraprendono regolarmente il turno di lavoro per poi invece dedicarsi ad interessi privati. È stato scoperto dalle fiamme gialle il 65enne in servizio con mansioni esecutive in una struttura dell'Asur di Senigallia. Le indagini sono partite da una chiamata arrivata al 117 nella quale venivano segnalati alcuni lavori in nero svolti da un giardiniere. I militari così hanno iniziato a pedinarlo dal momento dell'uscita della propria abitazione fino al termine del turno. La curata osservazione ha permesso di svelare che il pubblico dipendente in molte occasioni dopo aver timbrato il cartellino usciva subito per recarsi in luoghi che non avevano nulla a che fare con le proprie mansioni. Il 65enne si spostava spesso in bici e quindi per il controllo e il pedinamento anche i finanzieri hanno dovuto utilizzare biciclette, ciclomotori e autovetture avvalendosi pure di tecnologie informatiche per il tracciamento degli spostamenti. Durante i mesi di investigazione è stato rilevato che l'uomo quando doveva effettuare i lavori di giardinaggio utilizzava anche un'auto dell'Asur per ritornare a casa dove caricava gli strumenti indispensabili per la seconda attività come ad esempio tagliaerba, rastrelli, vanghe e sacche di concime e poi raggiungeva o i terreni di sua proprietà o dei giardini dei privati. Qui oltre alla semina di piantine effettuava la potatura degli alberi e curava gli spazi verdi a lui affidati. In altre occasioni invece usava lo stesso veicolo di servizio per effettuare operazioni di carico e scarico di piante e sementi in alcuni vivai o dai rivenditori. In altre giornate poi l'indagato sempre in orario di lavoro e utilizzando la bicicletta effettuava visite di cortesia ai propri conoscenti nel centro storico di Senigallia oppure andava a fare la spesa nei negozi di alimentari e di abbigliamento o ancora transitava per il mercato settimanale. Poi verso il termine dell'orario di servizio il dipendente infedele rientrava in ufficio per timbrare l'uscita. Questi comportamenti sono stati registrati in un arco temporale di circa sei mesi. L'uomo è stato denunciato dalla procura della Repubblica di Ancona per il reato di truffa ai danni dello Stato punito con la reclusione fino a cinque anni, perpeculato ai danni della pubblica amministrazione punito con la reclusione fino a dieci anni e sei mesi, nonché il reato di falsa attestazione della presenza in servizio per la quale si rischia il carcere fino a cinque anni.